ciao ragazze allora è un anno e mezzo almeno che voglio fare questo giveaway con questo bellissimo premio in paglio ma tanto è inutile che io faccia la misteriosa perché voi sapete già di che cosa si tratta avrete visto dal titolo c'è la palette della MAC si avete capito bene c'è la palette della MAC in paglio sono pazza lo so però è da tantissimo tempo che voglio fare un giveaway grandissimo che voglio regalare qualcosa di unico di speciale so che la MAC piace tantissimi di voi so che costa tantissimo quindi tantissimi di voi non hanno le palette della MAC io per esempio ci ho messo due anni per completarne una e l'altra è di là ci sono solo tre cialdine dentro perché comunque sono cosmetici fantastici ma costosi quindi mi fa assolutamente piacere poterla mettere in paglio per questo giveaway e potervi dire grazie perché questo giveaway per me sono il mio modo di dire grazie a voi e ultimamente ed è anche la cosa che penso di fare nel futuro voglio fare tanti giveaway piccoli di modo da poter regalare qualcosa un po' a tutti voi nel corso del tempo e poi ogni tanto magari fare dei giveaway veramente speciali grandi come questo questo premio quindi va a tutte quelle persone tutte quelle ragazze che mi dimostrano il loro supporto il loro affetto che mi seguono su questo canale che sono iscritta a questo canale che guardano i miei video che mettono mi piace che li condividono che commentano che mi lasciano dei messaggi dolcissimi che mi seguono su facebook che magari anche su facebook quando scrivo una stupidaggine anche in quelle occasioni mi dimostrano il loro affetto insomma tutte quelle ragazze che mi dimostrano il loro supporto e il loro affetto in milioni di modi e questo è il mio modo di dire grazie a voi quindi ho voluto scegliere appunto questa palette della MAC quella da 15 ombretti e la cosa veramente figa e che... ops scusate comunque non mi trattengo su questo video perché sono troppo felice dovete immaginare che io è da un anno che progetto di fare questo video che progetto di fare questo giveaway quindi sono veramente felicissima di poterlo fare e la cosa è veramente carina di questo giveaway è che sarete voi a scegliere i 15 ombretti quindi sarà la vincitrice a dirmi quali ombretti vorrà in questa palette quelle cialdine e... c'è il sito della MAC americano quello... so che c'è anche quello italiano però in quello italiano non so se hanno già inserito tutti gli ombretti comunque vi metterò qua giù nell'info box anche il link del sito dove ci sono tutti gli ombretti così potete magari sceglierli e non ci sono magari gli swatch però quelli li potete comunque trovare su internet comunque questo è un problema tanto che si pone dopo mi sembrava una cosa molto carina fa scegliere direttamente alla vincitrice i 15 ombretti con cui riempire questa palette quindi spero che faccia tanto piacere anche a voi piaccia anche a voi questa cosa io ve la rimetto dentro nel sacchettino tolgo lo scoprino ovviamente non mi è stata inviata l'ho pagata io con i miei dindi magari mi inviassero le palette della MAC comunque a parte questo questo appunto è il premio per quanto riguarda le regole dovete essere iscritte a questo canale quindi vi lascerò qua sopra il link all'iscrizione mi raccomando controllate questa cosa perché mi è capitato diverse volte in passato durante l'estrazione di escludere alcune ragazze perché non erano iscritte al canale e seconda cosa tutti i commenti che troverò sotto questo video parteciperanno all'estrazione finale avete tempo 10 giorni dopodiché inserirò nell'info box il nickname della vincitrice quindi niente credo di avervi detto tutto vi ringrazio veramente tanto per il supporto e l'affetto che mi dimostrate e questo appunto è uno dei modi che ho io per dimostrare a voi la mia gratitudine e il mio ringraziare e basta vi auguro tantissima buona fortuna vi mando un grosso bacione ciao